Gioielleria, laboratorio orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo, alta pressione è sempre più forte e via via si assopisce nuovamente l'inverno, il clima infatti sarà meno freddo e con caratteristiche più primaverili. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 febbraio. Sul Veneto nelle prime ore varie nubi basse e nebbie in pianura e anche nelle vallate prealpine localmente persistenti, per il resto cielo da poco nuvoloso a sereno, precipitazioni assenti, venti deboli da direzioni variabili. Temperature come detto in aumento, minime tra meno 2 e 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente anche qui cielo molto nuvoloso e coperto, a seguire invece più sole dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 6-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato qualche addensamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo zero o di poco superiori, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio da Re, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.